1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 bella palla bella palla Cesare bella palla Cesare io non ho timolare per la patria per il campo ma ne prendo la patria ma io gliela faccio come si tira così in vicino la patria è forte addosso il caldino è quello dai dai Simo 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 si Simo vai a 1 adesso Simo bravo, alzata buona eccolo qua e ora tocca a noi ok, c'è capito ok, quanti sono più essenziali vicino, vicino, vicino non si preoccupate, bella zappa palla di rama, bravo dai si gioca, ordine via ehi, bravo non c'è sei ore se palla di giucca lui ci potrebbe attaccare seconda palla, sicuro ci sei tu Fabio io rifare, rifare, rifare è una cagata questo attacco dai, Dario oh, bravo Dario bravo Dario mi sei venuto vicino bravo Dario grazie siamo 6-4 per la squadra di qua venite in punti voi io non li voglio tirare siete voi che giocate ola 6-5 arriva io mi sto tirando su C9 questa palla la devi tenere eccoci qua dai, ancora, ancora non voglio fare il punto io lo devono fare gli altri non voglio fare io si 6-6 sei pari? no 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 6-6 l'altra gamba davanti, buono che sei sceso buona, buona ah, non sprecare tutto un'altra leggenda del vittorio anche oggi forza Francesco, dopo si fa cambiato dai, dai, simbo, stai putti, 8-6 loro eccoci muori si, 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 su alto, alza il braccio vai di nuovo attacco mio dai, 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 tieno, tieno, tieno bravo D'Arione ho sacato troppo sulla riga vai, attacco millone vai, vai, vai su, vai su belle vai vicino, vai vicino buona, 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 buona vai la difesa è lì quindi lui è lontano da rete se no è il primo a parte non c'è di tirare la difesa in testa però non c'è di tirare la difesa in testa 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 senza non c'è di tirare la difesa in testa non c'è di tirare la difesa in testa oppa staccata staccata si buona dai che si gioca dai che si gioca stacca che tanto tira piazza dai dai occhio nooo tu sei dentro a battere stai dentro a battere a battere a battere dai che si gioca dai che si gioca dai che si gioca c'è 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 non hai la mano dietro nooo bravo che ti sei avvenato non hai la difesa non hai la difesa ecco qui se la va a prender eh si dai 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 Ancora una L'ultima possibilità Vai da Rione Vai da Rione Ligia Alta È precisa Però con una palla che arriva da lontano Dalla rete Se la teniamo bassa si infila nella rete Teniamo la alta Buona difesa Simo Ciruzzo che palleggio Abbraccio alto Punti 18-14 Tanto mio Vai che buona Vai che buona Tanta roba Bravo che hai avuto la pazienza Di far andare sul passo Che un bulo imperioso c'è Spalle indietro Talauser Lui è il franello Spalane ragazzi Una una Andiamo 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 Che paia Che palla Fabio Selle vicino Bravo Luca Che piaccia Grazie